La Chiesa non ha alcuna responsabilità. È con questa motivazione che la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, guidata da Monsignor Riccardo Fontana, ha negato il maxirisarcimento chiesto dai familiari di Guerrina Piscaglia, la 50enne uccisa da padre Graziano e la frate congolese condannato in via definitiva per omicidio e distruzione di cadavere a 25 anni di carcere. La diocesi aretina che ha risposto ai familiari attraverso una missiva ritiene infatti che le condotte del religioso sono state autonome e che in base alle interpretazioni del codice civile e del diritto canonico la Chiesa non aveva ruolo di direzione e sorveglianza sul sacerdote. La cura è responsabile per il semplice fatto prima di tutto che è stata la diocesi ad incaricare e inviare padre Graziano alla chiesa di Carraffello. Secondo perché come dall'istruttore dibattimentale nel processo penale già c'erano delle avvisaglie di comportamenti anomali o quantomeno non troppo corrispondenti a quello che dovrebbe fare un prete. Non sono intervenuti e poi dopo c'è una questione di carattere giuridico che si può applicare non solo ovviamente alle diocesi ma si applica anche a altri datori di lavoro. Gli avvocati che assistono i familiari della donna andranno comunque avanti con l'azione civile. Noi ora dedicheremo il mese di agosto per la stessura dell'atto di citazione e il mese di settembre-ottobre notificheremo l'atto di citazione. Guerrina Piscaia scomparve misteriosamente nel nulla il primo maggio 2014 da Carraffello, piccola frazione di Badia Tedalda in provincia di Arezzo. Lo scorso 20 febbraio padre Graziano all'epoca della sparizione viceparroco era stato condannato in via definitiva a 25 anni attualmente e detenuto a Rebibbia. Il corpo della donna invece non è mai stato trovato. La speranza è che lui prima o poi si renda conto che questa situazione è irreversibile per lui e che quindi dica qualcos'altro.